ciao a tutti da Andrea della Selle di Brescia vi faremo sentire ora l'active sound originale di questa Maserati Levante per sentire poi la differenza quando installeremo il Kufatech sound booster ora il mio collega Massimo vi farà sentire il sistema originale così è in condizioni non in sport mentre prima era in sport con l'active sound originale come in questo momento un active sound comunque piuttosto tenue in questo modo quando filmeremo la seconda parte del video con installato il Kufatech sound booster si potrà vedere in maniera coerente la differenza di sound ottenuta un saluto a tutti e a presto ciao a tutti sono ancora Andrea della Selle di Brescia come promesso ora vedremo il risultato dell'installazione del Kufatech sound booster su Maserati Levante diesel ora il mio collega Massimo accenderà la vettura e già non in sport sentiremo una differenza sostanziale ora metterà la vettura in sport come si può notare la differenza è davvero sostanziale se anche voi quindi siete interessati all'installazione del Kufatech sound booster pro non esitate a contattarci un saluto a tutti da Andrea della Selle di Brescia e al prossimo video